buona giornata con l'almanacco barbanera oggi è il 14 novembre si ricorda san rufo il nome rufo deriva dal soprannome latino rufus che letteralmente vuol dire rosso dice il proverbio la gloria di questo mondo è una botte senza fondo sono nati oggi claude monet carlo d'inghilterra nicola sabino il 14 novembre 1851 viene pubblicato moby dick di herman melville la storia della baleniera comandata dal capitano akab non incontrò subito un'accoglienza favorevole la prima traduzione in italiano dello scrittore cesare pavese è del 1932 nel 1971 la sonda spaziale mariner 9 raggiunge marte diventando il primo mezzo spaziale ad orbitare attorno ad un altro pianeta infine il 14 novembre 1985 viene eseguito a padova il primo trapianto di cuore in italia l'equip è guidata dal professore vincenzo gallucci jean paul sartre ha detto amare qualcuno è un'impresa c'è un momento al principio in cui bisogna saltare un precipizio se si riflette non lo si fa arrivederci da barbanera dal 1762 l'almanacco più amato d'italia